Sei pronta a vedere una cosa impensabile? Immagina un bacio che esplode dopo anni di attesa, un segreto che potrebbe distruggere tutto e un amore nascosto che finalmente viene confessato. Ogni istante è carico di emozione. Ogni sguardo nasconde un mondo di segreti. Sei pronta a vedere come tutto si trasforma? Iscriviti subito e non perderti nemmeno un secondo, perché le anticipazioni. La promessa ti sveleranno tutto quello che non ti aspetti. Caterina, con la sua risoluta determinazione, riesce a spingere Manuel a schierarsi apertamente nello sciopero del palazzo. Sebbene lui preferisca spesso mantenere una posizione neutrale, stavolta qualcosa dentro di lui cambia. Le parole di Caterina e le sincere suppliche di Maria Fernandez lo toccano profondamente, risvegliando in lui un forte senso di giustizia. Manuel prende una decisione che lo porta a sfidare il sistema e questa mossa finisce per irritare persino Cruz, noto per la sua freddezza e controllo sui piani politici. Manuel sa bene che questo suo atto potrebbe sconvolgere molti, specialmente Cruz, che non vede di buon occhio cambiamenti improvvisi e rischiosi. Ma questa volta, Manuel non può ignorare quella voce interiore che lo spinge a fare la cosa giusta, a stare non solo dalla parte dei potenti, ma anche dei più deboli, di chi ha più bisogno. Deciso a sostenere Maria Fernandez, si prepara a volare con lei a Cordoba, dove incontreranno i rappresentanti sindacali e affronteranno le tensioni che attraversano la città. La scelta è coraggiosa, e mentre si avvicina il momento della partenza, Manuel percepisce un senso di speranza crescere dentro di sé, una sensazione nuova, ma che gli dà forza. Accanto a Maria Fernandez, Manuel si sente ispirato e motivato. Sa che questo viaggio non sarà solo una trasferta per aiutarli, ma anche una prova per se stesso. In fondo, Manuel comprende che questo momento potrebbe segnare una svolta decisiva non solo per la sua leadership, ma per il suo intero futuro. Nel frattempo, Vera scopre con sgomento che il denaro segreto, nascosto accuratamente in soffitta, è scomparso. Immaginatevi, Vera, che si ritrova travolta dall'ansia e dalla rabbia per la perdita di una somma di denaro segreta. Lei è sicura di una cosa. C'è solo una persona che potrebbe aver preso quei soldi, ed è Maria Fernandez. Questo pensiero la tormenta, la spinge a voler affrontare Maria senza esitare, determinata a scoprire cosa c'è dietro questa sparizione. Non si tratta solo di recuperare i soldi, ma di mettere finalmente in chiaro le cose e, se serve, chiedere conto di quello che è successo. Ma attenzione, perché questo confronto tra Vera e Maria non è solo una questione di soldi. C'è molto di più in gioco. Tra loro due. Ci sono tensioni che si trascinano da tempo, ed è come se questo momento fosse la resa dei conti. Non è semplicemente una discussione tra due donne, è quasi una battaglia per il potere. Vera e determinata. Vuole risposte. Ma Maria sa che quello che dirà potrebbe cambiare per sempre la loro relazione. E non solo quella. Intanto, da un'altra parte della storia, Pelaio insiste per fare questo viaggio in America, e la cosa non passa inosservata. Non solo Caterina, ma anche Margarita, iniziano a farsi delle domande. Margarita sente che c'è qualcosa di strano in questa insistenza, e decide di avvicinarsi a Caterina, come farebbe una buona amica. Le parla apertamente, la invita a riflettere sulle vere ragioni di Pelaio. Perché questa fretta? Perché adesso? Catalina ascolta attentamente le parole di Margarita, e capisce che deve affrontare la questione. Deve chiedere a Pelaio cosa c'è davvero dietro questa decisione. Magari lui ha un piano segreto, oppure sta nascondendo qualcosa di più profondo, qualcosa che neanche lui vuole ammettere. Questo confronto non solo aiuterà Pelaio a fare chiarezza, ma sarà anche un modo per Caterina di mettere ordine nei suoi dubbi e nelle sue paure. Poi c'è Virtudes, che non ce la fa più a reggere la pressione di Norberta. Decide di tornare a casa, ma lo fa con sentimenti contrastanti. Da un lato sente di doverlo fare, dall'altro è piena di incertezze. Simona, che è al suo fianco, le dà il suo sostegno, ma dentro di sé è tormentata. Cerca di nascondere l'agitazione che prova, ma quando parla a Virtudes, sul suo volto traspare chiaramente la tristezza e la preoccupazione che la stanno consumando. Cosa succederà dopo? Iscriviti al canale e lo scopriremo presto, ma una cosa è certa, niente sarà più come prima. La separazione tra Virtudes e Simona non segna solo una distanza fisica, ma crea una vera e propria frattura emotiva nelle loro vite. Il legame che le unisce si è profondamente radicato dopo il loro ritrovamento, diventando indissolubile. Ma a volte la vita mette davanti a scelte difficili, e queste scelte possono costringere persino chi è molto legato a prendere strade diverse. In queste anticipazioni, la promessa, possiamo vedere come questo distacco tra madre e figlia sia doloroso e inevitabile, ma al tempo stesso una prova di crescita per entrambe. Manuel, dopo tanti sforzi e sacrifici, è ormai vicino al suo obiettivo, smascherare le bugie di Abel. La sua determinazione lo ha spinto a raccogliere prove contro di lui, ed è sul punto di ottenere ciò che desidera. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un ostacolo inaspettato lo blocca. Yana, con sguardo serio, lo ferma e gli rivela una verità sconvolgente. Abel è a conoscenza della loro relazione. Questa rivelazione scuote profondamente Manuel, facendolo vacillare. Le anticipazioni La promessa C mostrano come questo colpo di scena complichi la situazione, mettendo in dubbio tutto quello che Manuel ha costruito fino a quel momento. La confessione di Yana non solo lo sorprende, ma lo fea riflettere profondamente sulla sua stessa strategia. Sapere che Abel conosce i suoi segreti rende tutto più complicato. Manuel, sebbene toccato dalle parole di Yana, non può fare a meno di sentirsi deluso. È un momento in cui deve affrontare le proprie insicurezze, mettendo alla prova la sua determinazione. Il suo spirito combattivo, però, non si spegne. Nelle anticipazioni, la promessa vediamo come Manuel cerchi di mantenere il controllo delle sue emozioni e di andare avanti, nonostante la crescente complessità della situazione. Intanto, un altro colpo di scena si verifica quando Petra, con lo sguardo colmo di rabbia, rivela al conte di Ayala un'informazione scioccante. È stata Cruz a mandare Feliciano alla battuta di caccia. Questa rivelazione lascia il conte senza parole. Nella sua mente, Cruz non sarebbe mai stata capace di qualcosa di così meschino. Ma mentre ascolta attentamente Petra, i suoi occhi rivelano una crescente sorpresa. Le anticipazioni. La promessa C fanno capire come il conte inizia a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere. Mentre Petra parla con sincerità, il conte di Ayala è sempre più confuso. Ma la determinazione nei suoi occhi, Glee, fa comprendere che la questione è grave. Non può ignorare le parole di Petra e si rende conto che quella rivelazione potrebbe avere conseguenze devastanti. Se ciò che Petra ha detto è vero, la reputazione di Cruz potrebbe essere distrutta, sconvolgendo completamente l'equilibrio di potere all'interno del palazzo. Le anticipazioni. La promessa C mostrano che il conte, per quanto scosso, decide di indagare ulteriormente su Cruz, consapevole che questa informazione potrebbe cambiare tutto. Il conte di Ayala, nonostante le rivelazioni fatte da Petra, sa bene che servono prove concrete per confermare la colpevolezza di Cruz. Per questo decide di mantenere un atteggiamento cauto e riflessivo, ma proprio mentre la tensione sembra salire, qualcosa di completamente inaspettato accade. Il conte non riesce a trattenere più i suoi sentimenti e, quasi travolto dal desiderio, bacia Petra con una passione che sembrava sopita, ma che all'improvviso esplode dentro di lui. Le anticipazioni. La promessa C portano dentro questo momento intenso, dove il confine tra razionalità e passione si dissolve. Questo bacio rappresenta qualcosa di molto più profondo. È l'espressione di una passione che ha covato per anni, un'attesa infinita che trova finalmente il suo sfogo. Quando le labbra del conte Ayala incontrano quelle di Petra, tutte le emozioni che avevano cercato di nascondere nel tempo riemergono con forza. Non è solo un contatto fisico, ma un vero e proprio incontro di anime che si sono a lungo cercate, come rivelano le asterisk anticipazioni la promessa asterisk. Le mani del conte risvegliano in Petra sensazioni che non provava da molto tempo. Questo bacio sembra colmare il vuoto degli anni passati, superando tutte le parole mai dette e tutte le barriere che li avevano tenuti lontani. Il momento è come un presagio di un incontro tanto atteso e desiderato, una promessa che si sta finalmente realizzando, come sottolineano le anticipazioni la promessa. Mentre i loro sentimenti riaffiorano, anche il legame tra il conte di Ayala e Petra si rafforza. È un momento che porta con sé la gioia e la serenità di ritrovarsi, dopo tutto ciò che hanno passato. Tuttavia, questo bacio non è privo di complicazioni. I segreti che entrambi custodiscono, le responsabilità che portano sulle spalle e l'incertezza del loro futuro pesano su di loro, anche in un momento così intimo. Le anticipazioni. La promessa. Ci mostrano come, nonostante la felicità di questo incontro, i pensieri delle difficoltà future non li abbandonino. Ma, per ora, sono decisi a godersi questo istante di pace, rimandando le decisioni e le difficoltà al futuro. Nel frattempo, Yana assiste a un altro momento di grande intensità emotiva. I suoi sforzi vengono finalmente ripagati. Lope e Vera, dopo anni di silenzio, si confessano il loro amore. È un momento di pura bellezza, come un fiore che sboccia dopo una lunga attesa. Gli occhi di Lope brillano di speranza, mentre Vera sorride con un entusiasmo che illumina il suo volto. Con la confessione d'amore tra Lope e Vera, cambia anche l'atmosfera intorno a loro. L'ambiente sembra trasformarsi, come se le emozioni che avevano tenuto nascoste per così tanto tempo adesso fluissero come un fiume in piena. L'aria nella stanza si riempie di felicità e serenità, e Yana, osservando tutto questo, non può fare a meno di sentirsi soddisfatta. Le anticipazioni. La promessa. Ci rivelano che anche per Yana, vedere l'amore trionfare grazie ai suoi sforzi le riempie il cuore di gioia. Le anticipazioni. La promessa ci lasciano con un senso di felicità, ma anche di attesa per ciò che il futuro riserverà a questi personaggi. Se vuoi ricevere nuovi video della serie, scrivi «Voglio il seguito» nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie! Grazie! Grazie!